Volpiano, due volontari della festa del Rione San Grato, rapinati, è successo nella notte tra domenica e lunedì scorsi, quando, ultimata la manifestazione, si sono recati con il ricavato alla filiale della banca Sella per depositare il denaro in casa continua. Cinque uomini a volto coperto e pistola alla mano, hanno intimato ai due volontari di consegnare loro il denaro, 8000 euro, e poi sono fuggiti su una Fiat Bravo. Sull'accaduto indagano i carabinieri.